Non solo cinghiali, non solo gli ungulati assurti purtroppo alle cronache nazionali per il luttuoso evento che ha provocato un gravissimo incidente lungo l'autostrada 1 la scorsa notte. La golena del nostro territorio si conferma infatti teatro di incontri molto particolari e che fino a qualche anno fa era difficile anche soltanto immaginare. Guardate cosa ha scovato il cellulare di un residente di Martegnana di Poi intento a passeggiare col proprio cane nella golena del comune Casalasco. Gli animali che si muovono in lontananza sono per la precisione caprioli, una famiglia intera intenta probabilmente a cercare cibo. Accade infatti sempre più spesso che questi animali che dall'appennino e da luoghi più adatti al loro status di animali selvatici si sono spostati negli anni verso la pianura, si spostino poi verso le zone dei centri abitati, trattandosi di animali che non hanno mai molta confidenza verso l'uomo. Il motivo, pensando al capriolo e al cinghiale, è abbastanza semplice da intuire sia per la natura della specie sia perché entrambe le razze vengono spesso cacciate. È molto raro che gli stessi si lasciano avvicinare. Accade quando questi sono appunto desiderosi di trovare cibo oppure quando qualcosa non va e l'animale forse all'ultima spiaggia cerca un ausilio esterno. Così se a Martegnana assistiamo a questo incontro abbastanza a distanza, ecco che a San Daniele Po nei giorni scorsi il sindaco Davide Persico, amante della Golene e del suo paesaggio, si è ritrovato praticamente di fronte a un esemplare di capriolo solitario. Questo si è lasciato avvicinare probabilmente perché è colpito da un'infezione all'occhio. Quando il sindaco di San Daniele Po ha provato ad avvertire chi di dovere per segnalare la situazione e provare a medicare l'animale, lo stesso si era però già allontanato. In ogni caso due episodi che confermano la presenza di questi esemplari solitamente abbinati ad ambienti differenti e più di altura anche nella nostra Golena.